La squadra mobile della questura di Forlì, diretta da Claudio Cagnini, ha arrestato due uomini considerati gli autori di 13 delle 16 rapine, tutti ai danni di farmacie di Forlì e Cesena, commesse nel corso del 2015. Nessun collegamento fra i due, se non la predilezione di utilizzare le casse delle farmacie come bancomat. Si tratta di un 67enne residente a Belluno e di un foggiano di 41 anni. Entrambi agivano da soli, col volto travisato da un passamontagna, armati di pistola a giocattolo o il foggiano anche di un grosso cacciavite. Al primo, al quale vengono attribuiti nove colpi con un bottino oscillante ogni volta tra i 200 e i 1000 euro, è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla procura forlivese nel carcere di Portaurea di Ravenna, dove si trova dal 10 settembre scorso quando venne arrestato in flagranza, mentre si preparava a Faenza all'ennesima rapina di una farmacia. Al 41enne foggiano, pregiudicato senza fissa dimora, arrestato lo scorso agosto dalla polizia Fano, mentre anch'esso stava per commettere un'altra rapina e già denunciato circa cinque anni fa dalla questura forlivese per un colpo in una farmacia a Forlì ed un supermercato a Savignano, vengono attribuite tra aprile e luglio scorso una decina di rapine ai danni di farmacie, ma anche di supermercati nei territori di Fano, Pesaro e Riccione, oltre alle quattro commesse fra Forlì e Cesena, con bottini sempre oscillanti fra i 150 e i 2000 euro. Dalle Marche era solito spostarsi in Romagna utilizzando scooter rubati a Rimini, in un caso utilizzò anche un'auto per la prima parte della sua fuga. Proseguono le indagini da parte degli investigatori per risalire agli autori delle altre tre rapine ai danni di altrettante farmacie forlivesi.